Grande Fratello Vip 2022 Ascolti TV, prima puntata ieri sera, lunedì 19 settembre, quanto hanno fatto signorini su Canale 5? Ieri sera, lunedì 19 settembre 2022, è andata in onda su Canale 5 la la prima puntata del Grande Fratello Vip, ma quanto ha fatto in termini di Ascolti TV? Ecco tutti i dati Auditell e Lo Share Leggi anche, amici 2022 Oggi, quando inizia la puntata? Orario dei Time Ascolti TV ieri sera 19 settembre 2022, quanto ha fatto la prima puntata del Grande Fratello Vip? Ieri sera, lunedì 19 settembre, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione del Grande Fratello Vip mentre su Rai 1 è andata in onda la replica di Lolita Lobosco Scopriamo chi ha avuto la meglio. La replica le indagini di Lolita Lobosco ha appassionato 3 374.000 spettatori pari al 20,42% mentre su Canale 5 la prima puntata di Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2 636.000 spettatori pari al 21,73% di Share Grande Fratello Vip, quando va in onda? La nuova edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale ogni lunedì e giovedì in prima serata, l'orario d'inizio è dalle 21.35 circa Ogni puntata finisce intorno alle ore 1. La durata complessiva è quindi di circa 3 ore Grande Fratello Vip concorrenti, è entrato ieri sera? Di seguito la lista dei concorrenti in ordine di entrata durante la prima puntata del GF Vip in onda Ieri sera, Cristina Quaranta Antonino Spinalbese Ginevra Lamborghini Lenoir Ferruzzi Amaurais Perez Patrizia Rossetti Pamela Prati Giorgio Pila Nattilio Romita Sara Manfuso Nikita Pelizzon Albert De Paissis Cosa c'è stasera, 20 settembre 2022, in TV su Rai 1 e Canale 5? Lo scontro a colpi di Ascolti TV di stasera, invece, vedrà il film Sofia su Rai 1 e Lockdown all'italiana su Canale 5 Non segui ancora su Instagram? Resta aggiornato con le novità sui programmi TV, gli ascolti TV di ieri sera 19 settembre Le curiosità sulla prima puntata del Grande Fratello Vip sulla programmazione di Canale 5 sui cliccando qui Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao!